Isola, la prossima edizione potrebbe essere condotta da Simona Ventura Al posto di Alessia Marcuzzi potrebbe condurre lIsola dei Famosi, Simona Ventura. . Ledizione 2018 del Cancelletto Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Cancelletto Alessia Marcuzzi, è partito col botto e continua a tenere milioni di telespettatori incollati davanti al televisore, più per i numerosi scandali che si sono susseguiti da quando è iniziata questa edizione che per le vicende vere e proprie dei naufraghi. . Tutto ha avuto inizio con il canna gate con cui lEx porno star ungherese Eva Enger ha accusato lEx tronista di Uomini e Donne Francesco Monte di aver introdotto allinterno del programma della droga e di essersi fumato una canna. . Da quella prima puntata, in cui si è consumato lo scandalo in diretta, sono seguiti i litigi, eliminazioni e amori sullIsola. . Ma a tenere banco in questedizione 2018 sono altri argomenti come la lite in diretta tra la Marcuzzi e la Enger sempre a causa della vicenda Monte, lamore nato tra Monte e la di Benedetto e il litigio tra la Cipriani e la nuova naufraga Valeria Marini. . 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